Il processo per l'affaire dei cosiddetti flaconi d'oro è arrivato a conclusione con la sentenza di condanna dei giudici contabili nei confronti dei dipendenti dell'ASR Foggiana, Romolo De Francesco, Nazario Di Stefano, Nicola Marinaro e Giovanni Grilli. Assolto invece Matteo Melchionda, capo del pronto soccorso dell'ospedale di Manfredonia, a cui è stato anche revocato il sequestro degli immobili scattato nel 2015. Lo scandalo scoppiò all'ospedale San Camillo dell'Elles di Manfredonia, dove fu acquistato disinfettante per le sale operatorie, per il prezzo di mercato di 60 euro, pagandolo invece a 1.900 euro. Sullo sfondo, secondo gli inquirenti, un fiume di tangenti, regali e viaggi per oliare la filiera truffaldina. La sentenza di primo grado della Corte è pesante. Marinaro dovrà risarcire all'ASR Foggia la somma di 166.000 euro, pari al danno procurato per l'acquisto dei primi 90 flaconi. De Francesco e Di Stefano dovranno pagare 1.100.000 euro. De Francesco dovrà pagare inoltre altri 240.000 euro. con grilli e 37.000 euro con Marinaro, per un totale di oltre un milione e mezzo di euro. Le parti potranno ricorrere in appello.